Independence e Freedom qui, sala di lancio Kennedy. Manca un minuto al lancio. A tutto l'equipaggio, visiere in posizione di sicurezza. Independence qui, controllo lancio. I vostri parametri risultano regolati. Mancano 31 secondi. Accensione automatica. Piloti, preaccensione, propulsori ausiliari. Siete i nostri guerrieri. Che Dio sia con voi. Siete già degli eroi, rilassatevi e potete vi viaggio. Controvo sistema termico pronti. Venti secondi all'accensione. Diez, nove, otto. Controvo sistema termico. Quattro, tre, due, uno. Ciao a tutti da Ricky Riccardi J e benvenuti a The Journey. L'appuntamento settimanale con la musica mixata su Radio Melo di Valtidone. Un'ora senza interruzioni nella quale spazierò tra Urban e Club Music. Ovvero tutto quello che riguarda i party mood. Quello che piace tanto a noi. È tutto pronto quindi per il primo lancio ufficiale. Welcome aboard. Start the journey. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. State ascoltando The Journey con Ricky Riccardi J. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.